Da segnalare purtroppo un terremoto di 3.1 registrato alle 6.25 di sabato 20 aprile, cioè oggi, nelle Marche. La scossa a 23 km di profondità si è verificata a 2 km da Santa Maria in Matenano, in provincia proprio di Fermo. 20 minuti prima un'altra scossa di 2.7 è stata registrata proprio in provincia di Macerata. Paura, inutile negarlo, tra la popolazione e decine di chiamate centralini delle forze dell'ordine, il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'INGV proprio di Roma, capitale d'Italia. Dunque un terremoto che ha sconvolto la cittadina, o meglio la regione Marche, ubicata nel centro dell'Italia, ripeto. Vi ringrazio per l'ascolto, se l'avete percepita questa scossa ditemelo oppure no, fornitemi un vostro giudizio, una vostra opinione. Un cordialissimo saluto a voi tutti dal vostro narratore italiano di YouTube Italia.